Amici di Onda Libera, siamo al seminario di Fano, siamo con Anna Maria Arasicoli, presidente del FAI, per un'iniziativa che il FAI sta portando avanti, ma prima di tutto che cos'è il FAI, che cosa fa? Il FAI è il Fondo Ambiente Italiano, nasce per seguire il National Trust inglese e si occupa della scoperta, della tutela, della salvaguardia, della manutenzione di tutti i beni di cui l'Italia è ricca. E il FAI in questi giorni sta celebrando due giornate di iniziativa in tutta Italia? Ecco, è il nostro fiore all'occhiello, è un'iniziativa su tutto il territorio nazionale dove apriamo tantissimi beni e dove dedichiamo questo nostro volontariato a far conoscere e ad amare il numero maggiore di persone sul nostro territorio. Quali sono le iniziative sul nostro territorio, quali saranno i beni che si potranno visitare? Ma nel... ecco, premetto che non dobbiamo più rincorrere i beni, ma sono i beni che ci chiedono, per cui già questo, dopo 22 anni di lavoro, vuol dire che siamo riconosciuti, apprezzati e sanno con che serietà operiamo nel nostro territorio. Le giornate di primavera sono il fiore all'occhiello, perché ci conoscono tutti, perché facciamo questa apertura di chicche nascoste, di cose mai viste, di cose private, pubbliche, di cantieri, di luoghi naturalistici particolari e quest'anno nel nostro territorio abbiamo sette aperture, per cui a Cagli apriamo il cantiere della Rocca e il torrione di Francesco Di Giorgio Martini e il cantiere di Ponte Maglio e la consolare Flaminia. A Fano apriamo il Museo Diocesano, che è praticamente un'apertura, perché è stato allestito da poco, ha dei reperti archeologici, alcuni anche romani, affissi al chiostro e la pinacoteca con degli arredi sacri, con altre cose, veramente molto molto belli e soprattutto nuovi. Poi a Mondolfo apriamo il complesso monumentale di Sant'Agostino e al di là della bellezza del luogo, al di là dell'interesse che può suscitare questa visita, per noi è molto importante perché è aperto dai giovani. Anche nella nostra provincia si costituirà il gruppo giovani che ci darà sinergia, ci darà entusiasmo, ci darà voglia di fare e soprattutto una giovanità che ha una dinamica diversa dalla nostra. E poi invece a Pesaro abbiamo due aperture, due aperture molto particolari e molto significative, perché abbiamo San Floro che è nato nel Settecento come sede dei seminaristi poveri che poi nel tempo è stato trasformato, adesso è sempre della Curia, però hanno fatto degli appartamenti per cui privatissimo, blindatissimo e ha degli affreschi del Settecento molto importanti. Ma la cosa direi molto particolare, molto bella, è l'iniziativa del direttore della Banca d'Italia, il dottore Grassini, che memore dell'esperienza dell'anno scorso a Dascoli, ha voluto far vedere a tutti i cittadini la funzione della Banca d'Italia con tre mostre, perché c'è la mostra del ceramista Baratti, c'è la mostra delle banconote che sono state emesse dall'origine ad oggi e poi di reperti che hanno trovato, che sono interessanti e quindi che aumentano la curiosità dei cittadini. Ma soprattutto è rivolta anche alle scuole, e stamattina ci sarà un veicolo di Settecento ragazzi, perché la cosa importante è che la Banca d'Italia venga conosciuta per le sue funzioni, per lo spirito col quale opera sul nostro territorio, che è diverso da quello delle altre banche. Per cui è importante che i cittadini si rendano conto di che cosa significa la Banca d'Italia per noi. E poi, infine, ad Urbino apriamo l'Accademia delle Belle Arti, sede dell'Accademia stessa, e la chicca di quest'anno è che faranno vedere dei sotterranei mai visti, puliti, restaurati, e quindi è una cosa molto molto bella, molto interessante, che è un valore aggiunto all'edificio stesso, che ha la sua importanza. Naturalmente questo nostro lavoro si augura che venga accolto e sostenuto da tutti quanti, con piccole o grandi offerte, con nuove iscrizioni, perché così ci fa sentire che il lavoro che facciamo è apprezzato e seguito da tutti quanti. Benissimo, ringraziamo la professoressa Maria Siccoli, ringraziamo il FAI, non resta che andare a visitare le aperture. Grazie. Grazie.